dietro l'angolo c'erano quattro o cinque amici di questo tizio. Ciao a tutti ragazzoli e bentornati bentornati anche oggi in un nuovo video. Come da titolo oggi sono qui per raccontarvi una mia esperienza ovvero quando mi hanno rotto il naso o quasi rotto il naso e voglio raccontarla anche a voi ma prima di iniziare voglio ricordare a tutti quanti di dare sotto un'occhiata ai vari link di lasciare like e commenti se questo video vi piace e non dimenticate assolutamente ragazzi di iscrivervi al canale di attivare la campanella delle notifiche perché molti di voi guardano i miei video ma ancora non sono iscritti o non hanno attivato la campanellina delle notifiche e così facendo vi perdete video. Vi ricordo che usciranno due video alla settimana solitamente ho rispostato l'orario a luna perché ho visto che è il migliore per la maggior parte di voi. Non dimenticatevelo attivate la campanella e seguitemi anche sui social perché lì pubblico tante cose e ovviamente ogni volta vi faccio sapere appena pubblico un nuovo video. Ma non perdiamo altro tempo iniziamo col racconto. Allora tutto questo si svolgeva penso nell'anno 2017 2018 comunque qualche anno fa io ai tempi vivevo a Londra vivevo a Londra già dal 2014 sono tornato in Italia in quel periodo più precisamente era intorno a gennaio 2017 e sono tornato in Italia perché a quei tempi lavoravo molto nella moda quel periodo lavoravo con Carlo Volpi uno stilista di maglieria italiano che però aveva sede a Londra. Sono andato in Italia appunto perché sfilavo col Pitti Uomo di Firenze fashion show molto famoso penso molti di voi abbiano almeno sentito nominare ogni tanto. Fortunatamente la sfilata l'ho avuta prima di tutto questo accaduto. Poche sere dopo penso probabilmente intorno a due sere dopo aver sfilato ero in giro a beccare un po' di miei vecchi amici di Milano sono andato in qualche locale ho beccato un sacco di amici anche lì poi incontro un mio vecchio amico passiamo la serata assieme da un locale all'altro ovviamente beviamo ci divertiamo ribecco un sacco di persone fino a che poi si fanno le 5 e le 6 del mattino decidiamo di andare a casa di altre persone per finire la serata la nottata e probabilmente anche dormire lì visto che dopo aver bevuto tutta sera non mi potevo spostare in macchina. Arriviamo in questa piazza ora non ricordo il nome della piazza in sé praticamente questa ragazza con altri amici vivevano dall'altra parte della piazza io ai tempi ancora fumavo quindi ci siamo fermati al distributore di sigarette a comprare appunto un pacchetto di sigarette mentre eravamo fermi a questo distributore di sigarette a una certa stavo prendendo le sigarette metto dentro la tessera sanitaria schiaccio per prendere le sigarette e dietro di me su una panchina sento sto tipo abbastanza grosso che sta litigando con la fidanzata e che guardo una due volte inizio ad guzzare un po l'orecchio perché comunque sentivo che partivano brutte parole e sentivo lei che si lamentava lui insisteva e da quello che ho capito insisteva per fargli fumare una canna lei non voleva era la sua fidanzata poi ho scoperto niente lui continuava a insistere e insistere diceva che non voleva fumare continuava a rispondergli male a dirgli guarda quanto sei fatto ti sei fatto di bamba tutta sera guarda come mi tratti di qua e di là e niente in poche parole la discussione era questa io prendo il mio pacchetto di sigarette appena venuto fuori dalla macchinetta non faccio in tempo a ritirare la tessera sanità vedo lui che inizia a spintonare a strattonare lei io ragazzi sarà che magari tanti dicono uno dovrebbe imparare a farsi i cazzi propri o altro io me li faccio ma su questo genere di cose non transigo anzi solitamente direi che è mille volte meglio aiutare una persona che ha bisogno di aiuto che ignorarla e vedendo come va il mondo oggi e ogni giorno che se ne sentono mille c'è ci sono persone che vengono picchiate violentate o derubate per strada che di solito stanno tutti a guardare anche in mezzo alla folla e nessuno fa mai nulla ma ritorniamo alla mia storia questo è un altro discorso niente quando inizia a spintonarla mi giro e abbastanza scocciato dalla situazione inizia a dirgli di smetterla che cazzo stava facendo questo tipo mi dice di farmi i cazzi miei di qua di là io i cazzi miei in questo genere di cose non me li faccio sono andato lì vicino gli ho detto nuovamente di piantarla questa testa di cazzo diciamo non ha voluto capire la situazione perché si è girato mi ha messo una mano al colletto della maglietta spingendomi ha iniziato a strattonarmi io lì non ci ho più visto ho iniziato a reagire anch'io e abbiamo iniziato a litigare nel mentre c'era il mio amico che era abbastanza preso malissimo dalla situazione la ragazza anche lei molto presa male ha iniziato a urlare dopo quei vari secondi di colluttazione diciamo la ragazza ha preso e se n'è andata via io lì ho detto vabbè cioè in più che mi metto difenda la prende e se ne scappa ma la cosa peggiore ragazzi è che dietro l'angolo c'erano quattro o cinque amici di questo tizio potete capire come è andata avanti la situazione hanno iniziato ad arrivare ovviamente erano tutti quanti belli che fatti peggio del compare hanno iniziato per l'appunto ad attaccarmi tutti quanti ad attaccare il mio amico che per carità lui non è una di quelle persone che sa difendersi avrebbe saputo difendersi in una situazione di queste io ho fatto diversi anni tra kraft maga e kickboxing però comunque ero abbastanza sbronzo e ero praticamente da solo contro cinque sei persone e abbiamo iniziato ovviamente a litigare chi correva di qua chi correva di là calci pugni e nel mentre ovviamente in quel momento mi sono arrivati diversi calci e pugni uno di questi mi ha colpito sul mio naso io ancora adesso sono abbastanza incazzato e avessi quella persona sotto le mani non so come finirebbe nuovamente ma quando vedo il mio naso non è più il naso di prima anche se magari non si può notare molto ma ha una leggera gobba da questo lato cosa che non aveva prima avevo un bel nasino senza gobba o comunque era uguale in entrambi i là è una cosa che ancora adesso soprattutto lavorando nel campo moda fotografia eccetera eccetera è una cosa che noto in molte fotografie che mi scattano è una cosa che mi fa buttare via parecchie ore di lavoro o comunque parecchie fotografie che non mi va di utilizzare quando vedo questa gobba in questa mica colluttazione appunto mi è arrivato questo pugno al momento non me ne sono accorto sarà l'adrenalina sarà l'alcol sarà qualsiasi cosa litigando finisce che ci spostiamo dall'altra parte della piazza e cosa peggiore questo gruppo di persone davanti a un paninaro che c'era lì in piazza ha iniziato a urlare che io avevo toccato la sua donna e voi potete capire che di solito nessuno fa mai un cazzo in questi casi ma questi classici tamarri pompati e strafatti hanno urlato una cosa del genere davanti a un paninaro pieno di altri pompati tamarri e strafatti anche se aggiunta ancora più gente a tutta la cosa quindi alla fine mi sono ritrovato da solo contro un gruppo di persone non so è veramente come ne sia uscito vivo perché poi si sentono storie di persone appunto che si mettono in mezzo a questo genere di cose e ovviamente prese a calcio e pugni da un botto di persone di certo non ne escono vivi in più cercavo di difendere poi il mio amico perché hanno iniziato a prendersela anche con lui anche se non stava facendo nulla anche se comunque non è un genere di persona che abbia mai alzato un dito neanche a una mosca in tutto questo casino c'è chi attaccava che non attaccava alla fine si sparpaglia un po' il marasma di gente nel casino in quel momento casualmente e sfortunatamente passa questo signore anziano avrà avuto sulla cinquantina o di più erano le sei di mattino ormai dimanica mattina col cane che portava il cane a pisciare penso alcuni di loro iniziano in quel momento a prendersela anche con lui passando di lì aveva visto un po' il casino e aveva iniziato comunque a inveire contro queste persone quindi a questi non è bastato e ha iniziato ad attaccare anche lui fortunatamente era dotato di un grosso cane quindi ha sganciato il guinzaglio il cane ha iniziato ad abbagliare ad ammettersi contro queste persone e che queste persone se la sono fugata a gambe levate ma come se non bastasse iniziai ad udire dall'altra parte della piazza penso alcuni di loro hanno iniziato ad urlare anche a delle ragazze vi stupriamo vi violentiamo eccetera eccetera ovviamente poi non hanno fatto nulla di ciò comunque si sono permessi di urlare determinate schifezze a ragazze quindi io non saprei non penso ci siano parole per descrivere questo genere di persone mi sto già trattenendo dagli insulti ma potete capire che sono persone che servono veramente poco al pianeta tralasciando questo tutto il casino signore ha tirato fuori il telefono per chiamare la polizia perché comunque non si sapeva dove fossero finiti dopo pochi secondi che era il telefono stava già su riscaldandosi perché comunque i poliziotti non venivano a fare quello che avrebbero dovuto fare hanno iniziato a urlargli che avrebbe dovuto dare più dettagli di qua di là io nel momento di enfasi ho preso il telefono al signore e ho iniziato a discutere io al telefono con la polizia al che siamo raggiunti al fatto che se non mettevo giù il telefono sarebbero venute ad arrestare me tutto questo perché io non gli ho saputo descrivere nei minimi dettagli gli aggressori ovviamente erano molteplici e ovviamente non sono stato a vedere che genere di boxer indossavano ricordavo solo uno avesse un bomber verde quello con cui ho litigato principalmente fin dall'inizio ma finita lì quindi ho deciso di mettere giù il telefono visto che mi hanno minacciato di venire ad arrestare me se non la piantavo perché loro non potevano venire senza un reale motivo una reale descrizione degli aggressori questo è quello che mi è stato detto io il giorno dopo due giorni dopo dovevo tornare a londra quindi non potevo permettermi casini alla mia persona come magari il ritiro dei documenti o comunque la possibilità di non uscire dal paese o varie di queste cazzate in cui non volevo andare incontro quindi ho preferito mettere giù il telefono ma casualmente lì di fianco c'era una macchina dei finanzieri che era ferma fuori da un che babbaro tutto questo sempre alle 5 6 di mattina via controllare documenti permessi e tutte queste cose erano in tre finanziere la dentro due erano fuori a fare niente in poche parole erano lì e oltre ad avere penso assistito alla scena perché comunque la gente urlava siamo andati io il mio amico e il signor anziano io comunque sanguinavo ho iniziato lì accorgermi comunque sanguinavo dal naso un po tube fatto per così dire quel signore ha iniziato a chiedergli aiuto l'abbiamo spiegato la situazione e vedo che queste alla fine guardano male me il mio amico e potendo capire che molte persone non so come mai ma soprattutto chi lavora in quell'ambito ce l'ha con la gente tatuata a prescindere o almeno non tutti mettiamo le mani avanti ma molti non ci guardavano di buon occhio al che io ho detto guarda non volete aiutare me o il mio amico ma c'è questo signore ha ricevuto anche lui urli minacce e ha rischiato di essere preso a sberle pure lui oltre le varie ragazze che si sono beccate minacce di violenze fate qualcosa la risposta è stata noi non possiamo fare niente siamo qui a lavorare chiamate la polizia al che gli ho spiegato che la polizia era già stata chiamata ma non voleva fare niente anche lì abbiamo iniziato una piccola discussione io avevo detto semplicemente che dovevo attraversare la piazza per andare a casa di amici che vivevano lì e che il loro dovere in teoria sarebbe di proteggere serviva comunque aiutare le persone momento del bisogno preso dal tutto gli faccio cazzo avete una pistola non volete fare niente arrestarli almeno spaventate questa gente in qualche modo dato che devo riattraversare la piazza e rischiare di essere ammazzato da 15 persone alla fine non hanno voluto fare niente perché non era il loro compito in quel momento ho abbastanza anche incazzato c'era una per terra una bottiglia l'ho presa l'ho spaccato sul marciapiede ho guardato i finanzieri e ho detto devo attraversare la piazza perché devo andare a casa di queste persone e vorrei anche andarmene a dormire se non aiutate voi se qualcuno nuovamente mi attacca io mi dovrò difendere visto che sono in 10 o 15 e da solo non ho possibilità fanno vabbè fai quello che vuoi se ammazzi qualcuno poi restiamo te cioè allora non ho capito questi devono aspettare che qualcuno venga ammazzato prima di far qualcosa devo aspettare di essere linciato da una folla per poi non aver fatto niente per aver difeso la fidanzata di questo idiota alla fine ho preso ho attraversato la piazza con questo bottiglia o cocci di bottiglie in mano per potermi difendere se qualcuno mi avesse nuovamente aggredito o comunque se un gruppo di persone mi avessero nuovamente aggredito ma fortunatamente si erano dileguati così che io abbia potuto raggiungere la parte opposta della piazza e arrivare a casa di questa amica con altri amici c'è da dire che vabbè appena arrivato comunque ero ancora euforico preso dalla cosa e abbastanza incazzato ma non tanto con questi idioti vero più arrabbiato con la polizia e finanzieri che non avevano fatto assolutamente nulla e di queste cose ribadisco se ne sente ogni giorno una diversa comunque appena arrivato da questi amici da questi amici mi hanno dato del ghiaccio mi sono dato una pulita sono andato a dormire e figli tutto bene non sono andato in ospedale perché naso non mi sembrava comunque rotto aveva smesso di sanguinare avevo preso si diverse botte era un po ammaccato fino a che due giorni dopo mi stavo facendo la doccia a casa mia qua in italia dove ancora tornare a londra mi sono fatto la doccia dopo essermi fatto la doccia mi sono soffiato il naso e soffiandomi il naso mi si è riempito di sangue tutto sotto quest'occhio è un po l'altro a lì ho detto cazzarola mi sa che mi tocca andare in ospedale quindi sono andati in ospedale due giorni dopo vabbè dopo aver raccontato l'accaduto mi hanno fatto lastre eccetera eccetera in realtà mi hanno detto che non sembrava rotto o comunque non era rotto completamente a metà c'erano delle micro fratture ma che sarebbe andato a posto e finita lì non abbiamo messo né cerottini né un cazzo eccetera eccetera ci ha messo un po a guarire non pensavo che in realtà pensavo andasse del tutto a posto pensavo fossero solo botte e invece è rimasta ripeto questa gobba niente volevo raccontarvi solo quest'aneddoto se a qualcuno di voi è successo qualcosa di simile si è ritrovato a difendere qualcuno eccetera eccetera di farmelo sapere qui sotto ragazzi sono veramente curioso vi ricordo di lasciare anche like e ancora nuovamente di iscrivervi al canale e di attivare la campanella delle notifiche perché veramente aiuterebbe crescere il mio canale e voi a non perdere nessuno dei miei video non saprei che altro aggiungere date un'occhiata anche ai vari social che altro dire ragazzi nient'altro bella